Io credo che dovresti riprenderlo. In fondo era di tua madre. Per le usanze vulcaniane non è permesso riprendere qualcosa che è stato dato in regalo. Si è fatto mollare. Che ha combinato? Tipicamente riduttiva la sua conclusione. Sa Spock se una ragazza della terra dice dipende da me non da te dipende da te.